Era una giornata piena di sole, non poteva andarci meglio, quindi tutta questa luce, questa luminosità ci aiuterà in questo cammino, in questo lungo percorso. Quindi siamo in tanti, bene, non ci aspettavamo questa partecipazione, anche i più piccoli. Oggi abbiamo piantato decine e decine di querce nell'oasi di zone umide beneventane, che non è solamente un'oasi che non protegge solamente un tratto di fiume calore, ma anche degli ambiti collinari e le querce sono piante tipiche delle colline del sud Italia. Di conseguenza noi abbiamo pensato di ripopolare i terreni a fianco al fiume, che digradano verso il fiume, per ricostituire dei boschi di quercia. È una bellissima giornata, l'occasione per ricodattare la natura e se stessi. Per stancarsi anche. Stancarsi fisicamente, che è importante, stancarsi fisicamente, questa società tutta virtuale. E niente, sicuramente il mondo ha bisogno di alberi, di filiera corta, della relazione corta col mondo esterno a noi. Siamo sempre in movimento. Dobbiamo iniziare a parlare di centratura. La centratura inizia dall'albero. E quindi abbiamo organizzato questa, qua viene un'occasione della festa dell'albero, una festa nazionale, giornata nazionale dell'albero. Abbiamo organizzato questo evento grazie alle piante fornite dai vivai forestali della regione Campania e ai terreni che ci ha dato in gestione la provincia di Benevento. Ha partecipato anche il comune di Benevento con l'assessore all'ambiente rosa e anche la Presidente della Commissione Ambiente del Comune. Quindi diciamo siamo molto soddisfatti di come è andata la giornata, ma nei prossimi mesi continueremo questa opera di rifiore forestazione in West High.